Musica Salve a tutti ragazzi, qui è JosephGamer e benvenuti in questo nuovo video Siamo su Far Cry 3, questa volta vi mostro un nuovo animale raro, ovvero la tigre di Sumatra Usando l'arco fornito per un tassidermista, anche questa volta un tassidermista, benissimo Avviciniamoci alla zona, attenzione ce n'è già una, no, questa viene verso di me Aspetta eh, ti stai atteggiando un po' troppo amica, ok, perdonami ma mi sono sentito minacciato E non mi piace appunto sentirmi in questo modo, quindi andiamo diciamo in quella direzione, laggiù No, ci vuole davvero troppo tempo, direi di prendere quest'auto Entra, entra, io te lo ordino Jason, ok Cioè è facile Jason, basta che premo un tasto e tu, tu esegui, quindi questa canzoncina un bel po' Io, 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 ok Lanciamoci come al solito Benissimo, siamo arrivati, oh cavolo, c'è un bagno di sangue qui Bambiamo tutte le munizioni, sì Benissimo, quindi io direi di procedere pian piano, anche se sto correndo, ma sono dettagli Mi sembra di aver visto un movimento, no, sono solo suggestioni le mie, sono solo impressioni errate Direi di procedere, almeno non correndo perché non vorrei attirare subito l'attenzione Cerchiamo questa volta magari di colpire l'animale senza farci sgamare In modo che abbiamo più possibilità di sopravvivere al primo colpo Tra l'altro io qui non vedo Oh cavolo No! Ti pareva? No, 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 attenzione, oh mio dio Premia rapidamente, sto premendo, sto premendo Mamma mia Ma è grandissima questa No, no, curati Jason, curati, curati di nuovo, Jason Attenzione, dov'è? Attenzione Tigra di sua madre ha presa Non ci credo, ragazzi L'ho presa in mezzo agli occhi, mi sa Vediamo Non ne ho idea No, vabbè, non mi riporto, diciamo, la freccia dove Una è andata a finire sulle chiappe, tra l'altro è anche scomparso in questo momento Possiamo Possiamo squoiare l'animale, ok Dalla coda, lo dobbiamo squoiare Ok, come vuole Questa volta siamo riusciti a sconfiggere il nemico davvero velocemente Non me l'aspettavo Caccia con arco tigre di sumatra Benissimo, abbiamo la sua pelliccia Possiamo creare qualcosina di davvero potente, non ne ho idea Credo di sì Vediamo un pochettino Al momento davvero non ne ho idea Aspetta, borsa per munizioni Ah, invece sì Super borsa munizioni Pelliccia di tigre di sumatra Appunto ce l'abbiamo Creamola Quindi questa volta Con questo potenziamento Possiamo avere munizioni Al massimo Mille, milla munizioni Ok ragazzi, questo video Si conclude qui Spero vi sia piaciuto Sto proponendo appunto questi video brevi Per quanto riguarda Far Cry 3 Poi vabbè, gli altri sono un po' più lunghetti Purtroppo sono The Wall True Spero comunque che vi sia divertiti Nonostante la lunghezza del video Nel caso in cui vi sia piaciuto Ricordate che potete lasciare un mi piace Un commento Ricordate anche di iscrivervi al canale Nel caso in cui non lo siete già Qui JosephedGamer E la tigre purtroppo che ci ha lasciato Vi salutano Io spero che appunto vi sia divertiti L'ho detto di nuovo sì Perché ci tengo davvero tantissimo Vi saluto Vi ringrazio nuovamente E alla prossima Ciao Oh cavolo questa che cos'è Lo sapevo Lo sapevo Vi riconcello Sapevo che eri qui Ok Sei mio Sei mio Sei mio Sei mio Benissimo Ci arriviamo almeno al cavolo di UAV Sì Almeno all'UAV Per non fare proprio brutta figura con i nostri bro Aspetta Io Benissimo Ciao Ciao Ciao